Andrea Ciampana, welcome Maremma. Cosa c'è di bello in questo stand? Buongiorno. Di bello in questo stand c'è una miriade di prodotti tipici, dagli affettati ai formaggi, olio, vino, da poter degustare, dei piccoli assaggi e la possibilità di portarseli a casa. Ladove assaggerete tutti i prodotti buoni e potrete acquistarli direttamente presso di noi. Ecco, senti, welcome Maremma perché Maremma non è solo laguna, noi che la conosciamo come laguna e quindi conosciamo i prodotti tipici del pescato, ma ce ne sono veramente molti altri, ci sono tante eccellenze del territorio. Quali sono quelle DOC, DOP, IGP che praticamente mettono una coccarda ai prodotti maremmani? La coccarda sta nella filosofia di produzione, non tanto nella differenza dei prodotti, perché poi qui troveremo, come ho detto prima, insaccati, formaggi, vino, olio. La forza è che la filosofia di produzione che si sta affermando sempre di più, ormai quasi totalmente, è quella della produzione molto attenta al biologico, al biodinamico. Quindi abbiamo i nostri produttori che amando la propria terra si relazionano con questa e il risultato è quello che poi producono e che ci fanno mangiare. Ecco, in molti si sono organizzati con le vendite online dei prodotti tipici locali, anche Welcome Maremma lo fa? Non ancora, ma c'è un progetto, sì. Vogliamo parlare? Troppo presto? È un po' prestino effettivamente, però diciamo che abbiamo già creato un nostro portale, lo stiamo sviluppando e un progetto sarebbe proprio quello, quello di poter poi vendere online non soltanto prodotti ma anche servizi. Quindi incrociamo le dita e speriamo di riuscirci. Ecco, insomma, allora organizzatevi presto perché io adoro questa caciotta, quindi prima o poi devo comprarla e me la devo portare a casa. Vabbè, ma per quello non c'è problema, c'è bisogno del portale nostro, quello si può fare assolutamente. Grazie. Grazie a voi.